allora ciao a tutti cose di oggi brevissimo diciamo mi è giunta a voce da una fonte attendibile che qualcuno ha avuto una new entry in famiglia insomma e qualcuno ha per così dire accolto una ciusca a casa propria quindi insomma Mirko felicitazioni tantissime congratulazioni vivissime continuerò ancora a romperti le scatole per un po' comunque insomma complimenti mi fa molto piacere l'aver appreso questa notizia ti faccio ancora i miei più sentiti complimenti e alla prossima insomma risentirci a quando sarà ciao a tutti